www.redigio.it e la storia continua la campana zavataria il presente dura poco ma fai in tempo a diventare anziano e già la città è cambiata cento volte e la memoria stenta a riconoscere i luoghi e le abitudini i rintocchi della zavataria, la campana sul palazzo dei giure e consulti in piazza mercati segnava le ore in cui era permesso vendere il vino precisi milanesi da sempre il palazzo venne eretto nel 1562 e ingloba salvandova la bella torre civica voluta nel 1272 dal nobile Napo Toriani e in cima stava la zavataria il nome del podestà zavatario della strada Pavese, poiché milanese erano esclusi dalla nomina che l'aveva donata la città scandiva il mezzogiorno e il tramonto le ore disperate prima delle esecuzioni e quando appunto smettere di alzare il calice di vino prosit insomma, la zavataria da quando è stata posta sulla torre del palazzo dei giure e consulti ha sempre scandito la vita della città da due secoli al suo posto c'è un orologio era il perno di Milano tutto ruotava intorno ai suoi rintocchi la sera, dopo il terzo rintocco era meglio non avventurarsi per i vicoli soprattutto in certi rioni in mano alla malavita ma soprattutto regolava la vendita del vino e le osterie sin dal Trecento non erano soltanto luoghi dove intrattenersi a bere il vino l'oste non era solo un mercante piuttosto una figura con responsabilità ben precise come offrire alloggio agli stranieri diventando di fatto osteria albergo e oggi dove sono finite le osterie? Sto Milano, Milano e Sarabelle non dìsi che gente va, che cour, che tasse, che bofa su e giopere il tramvai su e giopere il vapore dei di, dei not che non se trova un can che faga il quarto tutto se dice, tutto se stampa tutto se crede e se beva l'ingrosse ma quel vinette salà nostran che si beveva alla nugos alla pattona in delta sin con qui due amaret tra una caressa al can e un'eggiada alla padrona carlin carlin anche più carlin già quel vinette salà impastato in gola e nei ricordi apre la porta succhiusa alla memoria alla vecchia Milano che ha fretta di diventare metropoli già alla fine dell'ottocento Emilio De Marchi blocca i fotogrammi della storia con Milan in Milanun e scrive un vero e proprio atto d'amore per una città che incomincia a correre verso il futuro e a perdere i pezzi del suo cuore antico sta sorgendo il novecento e lo scrittore scomparso cinquantenne nel 1901 non trova già più le sue belle osterie appena fuori dal dazio di porta ticinese come Lanus e quella che in piazza dei mercanti era tra il vicolo del gallo e piazza delle galline che ora non c'è più e oggi che fine hanno fatto le osterie sopravvivono per moda nelle insegne qualcuno a stento anche nel cuore o nel bicchiere genuino a spasso tra i ricordi un sorso di città da mandare giù con passi pigri magari proprio in uno spicchio nevragico del centro da piazza a San Nazaro si entra nel delizioso vicolo di Santa Caterina con la chiesetta dedicata alla Santa costruita nel 1540 pochi passi e si è già in Largo Ricchini architetto del Seicento colori atmosfere un po' francesi qui sboccano le vie Pantano Sant'Antonio e Fessa del Perdono che ruba già la scena con i suggestivi porticati dell'università statale ma c'è anche la piccola via Osti a ricordare che in quella contrada nel Seicento si apriva il maggior numero di osterie di Milano più di 20 per soddisfare il traffico del corso di Porta Romana e la via d'accesso più importante e sembra di sentire ancora i ritocchi della Zavataria il tempo trasforma tutte le cose ma quel bel vinette salà Nostran che si beveva in Delta Sin con cui lui amarete Carlin e che più Carlin rimane via Osti a incentilire il ricordo www.redigio.it e la storia continua